sinistra 4 chiude attenzione 10 destra 3 lunga taglia 3 lunga taglia 50 vai e accenno destro non tagliare e poi subito destra 3 sale e subito tornante sinistro sale bravo Ale dopo è un tornante destro marcia marcia giù di marcia così bravo 20 occhio che sporca eh tornante sinistro chiude non suonare guida non suonare 20 destra 3 al palo sale indosso in sinistra 3 attenzione sinistra 3 attenzione e subito destra 3 taglia 50 vai destra 4 più e 20 sinistra 3 al muro non tagliare 30 vai destra 3 in sinistra 4 destra 3 in sinistra 4 20 scende e stacca per destra 2 alla chiesa stacca per destra 2 alla chiesa 50 vai costeggia il muro Ale 100 non importa è scalato non importa 100 stacca il cartello per destra 3 metti la quinta poi scala bene scala bene scala bene al cartello destra 3 30 stringe in accenno sinistro tranquillo Ale stai andando bene e destra 4 al cancello 10 sinistra 3 chiude vai tranquillo non ti preoccupare pensa a guidare dosso scende in sinistra alla casa attento accenno sinistro eh e alla casa attenzione destra 5 diventa 4 al palo 5 diventa 4 al palo 50 dosso in destra 4 più 80 e stacca la pianta per destra 3 e subito sinistra 3 chiude sinistra 3 chiude 20 al rail destra 3 stringe diventa destra 4 in uscita e subito sinistra 2 sinistra 2 questo in due tempi lo sai eh primo tempo qui secondo tempo chiude allo specchio chiude allo specchio qui 10 alla ringhiera destra 50 sinistra 5 alla rete 30 stacca sinistra 3 chiude 3 chiude 3 chiude e sinistra 6 e destra 6 sconnessa e al traliccio stacca per destra 3 chiude chiude destra 3 chiude chiude 50 non c'è pensa alla strada 50 sinistra 4 diventa 3 al rail per accenno destro 20 sinistra 3 alla chiesa 3 alla chiesa marcia 10 destra 4 e 10 subito stacca per tornante sinistro tornante sinistro che qua potrebbero iniziare a sporcarsi eh ok va bene scende per accenno sinistro 20 tornante destro scende dopo il 20 hai tornante destro scende andiamo giù di quinta vai giù con le marce giuste fa la scorrere fa la scorrere eh fa la scorrere 10 tornante sinistro scende ecco va bene così va bene così Ale va bene così e destra 4 adesso voglio farlo stupido se c'è gente eh e diventa 3 al cartello e attenzione stacca per destra 3 lunga non chiudere non chiudere non chiudere 50 sinistra 2 lunga non suonare guida Dio fa sinistra 2 lunga non tagliare sporca 10 destra 2 torna non tagliare in sinistra 2 non tagliare 30 destra 3 in due tempi il secondo tempo chiude il rail eh chiude il rail occhio con le marce eh così ok frena di più e subito sinistra 3 attenzione e destra 4 diventa 3 al rail ok sinistra 3 e destra 4 attenzione qua 50 alla casa hai sinistra 3 e poi hai subito destra 4 frena sinistra 3 subito destra 4 poi 30 l'inversione allargati e gira Ale allargati e gira l'inversione sinistra bravo così bravo gira ok vai vai che giri giri tornante destro sale 50 guida dritto questo volante non esagerare guida dritto tornante sinistro sale ok 80 vai destra 5 in sinistra 3 taglia Ale 3 taglia 70 dopo il muro è un destra 4 in sinistra 4 sfiora e poi subito sinistra 4 destra 4 sfiora subito destra veloce bandiera gialla qui eh in sinistra veloce occhio che c'è in traiettoria forse eh destra veloce ok ok piano qui fuori traiettoria vai pure e V1 sinistra 4 lunga 4 lunga 40 occhio allo scolo destra 3 meno alla casa rossa 3 meno sale sporca qua eh c'è Garbero in accenno sinistro non c'è Garbero destra 4 meno stai a destra fallo passare stai a destra fallo passare Ale non importa dai destra e sinistra veloce lascialo andare sbattite nei coglioni fatti la tua gara destra alla siepe io faccio la Garbero 80 vai e tieni all'inversione destra 2 potrebbe essere sporca eh ok così allarga e buttati dentro occhio che sporca te l'ho detto che era sporca vai 30 destra destra 4 alla rete 10 destra 5 non farlo stupido che è finita la prova in sinistra 6 lunga sinistra 6 lunga poi fai ancora simmetri lì c'è la fotocellula vai vai tini giù va bene così Ale tu non ti devi preoccupare se lui ti prende perché loro corrono tutte le domeniche tu ti fai sta gara per divertirti ti sei divertito e allora cazzo te ne frega se ti passano in prova abbiamo perso l'inversione eh ma non importa Ale l'ho perso eh tu devi pensare a guidar bene se tu guidi bene i tempi ti vengono ah sicuro però non devi suonare non devi andare a zizzacro non devi metterti a salutare a mettere fuori il braccio e abbiamo fatto di casino eh se non fai quello non ti prendi ah sicuro vedrai adesso non far quello vedrai che non ti prendi ah sicuro ok